Grazie, generale. Trasmetterò le sue informazioni. Ora passo e chiudo. Gli ordini del generale sono questi. Fare dietro front e andare in Norvegia lasciando subito la Finlandia. E hai detto che ha ucciso sette dei nostri uomini? Certo. E lui? Dice che abbiamo avuto fortuna. Una fortuna del cazzo. La medaglietta del cane appartiene a un certo Atami Corpi. Era nelle forze speciali. Il più temuto di tutta la sua unità. Il generale ha detto, cito testualmente, con un bastardo spietato come lui meglio non avere a che fare. Combatté nella guerra d'inverno. Per colpa dei russi perse la casa e la famiglia. Così divenne un soldato crudele e assettato di vendetta che non prendeva ordini da nessuno. I finlandesi rinunciarono a tentare di imporgli la disciplina. Lo mandavano da solo nei luoghi più selvaggi a caccia di pattuglie russe. Lui da solo era uno squadrone della morte. Non c'è conferma ufficiale, ma pare che per mano sua siano morti più di 300 russi. E i russi, sai come lo chiamano? L'hanno ribattezzato Koshai. Vuol dire l'immortale. L'immortale.